Benvenuti a tutti, sono il timido Stephen Horton e siamo qua, torniamo con un giallo, con un romanzo che avevo detto che avremmo fatto, ovvero Assassino di Roger Ackroyd, che abbiamo letto, io e Morella, proprio il mese scorso, cioè in che senso? Fine gennaio, siamo a fine febbraio, cos'è successo? Ecco, qua mi scuso subito perché non ci sarà la solita live da un'ora e mezza, eccetera, ma una sorta di riassunto di 20 minuti, perché colpa mia, fra i mille video che dovevo montare, ho liberato lo spazio sulla scrivania del mio computer, il desktop, non intendo la scrivania vera, e che è successo? Ho cancellato il file, che non era più recuperabile, quindi l'abbiamo persa e non l'abbiamo rifatta, due ore e mezza di live, quindi vi porto il riassunto mio e delle considerazioni anche di Morella, quindi mi scuso di questo perché è un peccato, vero peccato. Vabbè, comunque, comunque, prima di iniziare vi invito a iscrivervi, a supportarmi, perché il canale cresce lentamente, ma sta crescendo, ovviamente non sono tantissimi i video e le live che facciamo, quindi è chiaro, però supportatemi lo stesso con una descrizione, un like, quello che vi pare. Va bene? L'assassina di Roger Ackroyd, Agatha Christie, siccome per gli autori fondamentali, Larry Quinn, Agatha Christie e anche Arthur Conan Doyle abbiamo fatto con Rex Stout, andiamo in ordine cronologico delle uscite, questo è il terzo o il quarto. Quindi, come possiamo iniziare? Visto che questo è un riassunto, sono un po' in difficoltà. Alla fine le nostre opinioni, spieghiamo il perché è un ottimo giallo, davvero un ottimo giallo, e anche il rapporto con il film, alla fine, della serie di Sashé che abbiamo trattato con le dovute differenze. Roger Ackroyd è il signore più importante di questo piccolo paese, ed è quello che possiede questa fabbrica, siamo nel 31, nel 34, cosa del genere, e quindi è l'uomo più importante. A Tonalui ci sono diversi personaggi, ma quello che è più interessante è notare che abbiamo un Poirot che sta in campagna. Quindi qualcuno dirà, è stato chiamato lì per risolvere il caso? No, lui ci sta vivendo, perché questo è un romanzo che subito spicca per due cose. La narrazione che non è in terza persona, ma è il punto di vista di un personaggio che è il dottore, e dall'altro abbiamo un Poirot che è un flash forward, questo in realtà. Cioè lui è andato a vivere in campagna e poi tornerà in città, quindi è un salto nel tempo rispetto alla continuità dei romanzi di Poirot. Questo è già fondamentale, che ci tornerà utile magari nei prossimi romanzi, ed è strano questo gioco che fa, quindi due punti di interesse. E proprio su questo, ah, aggiorno il banner, perché in questo caso dovremmo fare proprio spoiler, perché è arrivato fin qua e non vuole sapere niente, eh, leggetevi il romanzo oppure guardatevi il film del 2000, va bene? Spoiler, essendo che l'assassino è chi ha scritto il romanzo, il punto di vista del romanzo, cioè il dottore, adesso mi leggo i nomi perché è passato un mese e i nomi li ho un po', James Shepard, quindi medico del villaggio, assistente dell'investigatore Poirot, essendo lui l'assassino, il tocco di genio, sicuramente come ho scritto e come ho detto nella live di quel tempo, vediamo se riesco a recuperarlo, il primo capitolo è come nascondi una foglia incriminata, se si legge, vedete? Come fai? La metti in una foresta, quindi nessuno veda la differenza. E come fa l'acchristi questa tecnica geniale? Mettendo la narrazione dal punto di vista del dottore, che per tutto il tempo appare innocuo e gentile e forse quello più sano tra i vari personaggi, perché subito nel primo capitolo la Cristi inserisce questa comparazione fra la sua figura, di questo dottore, come dire, Ligio ha il dovere che non accetta i pettegolezzi e sua sorella Caroline, che è il suo esatto opposto. E qua c'è subito il problema del gossip che invade questa città, punto di forza dell'opera della Cristi, il chiacchierare alle spalle dei vari personaggi questa ipocrisia basso-borghese. E quindi ogni volta che noi scopriremo qualche indizio c'è subito l'idea del Beh, ma il pettegolezio. Ci sono momenti molto divertenti con Caroline, la sorella di James Shepard, che ha proprio questa funzione di, volte che zammatizzare, farci ridere, anche di farci capire diverse cose sul piano generale del dottore, che sfrutterà proprio la sorella per arrivare a diffondere certe notizie. Noi non ce ne accorgiamo perché la descrizione tende a dare il punto di vista del dottore come quello buono, quello forse un po' troppo severo, ma moralmente retto. E non a caso è proprio Roger Ackroyd che lo chiama lì per la signora Ferrars. Spieghiamo chi è. Il romanzo si apre proprio sul fatto che la signora Ferrars, che è l'amante di Ackroyd, che non ha sposato, morì la notte di giovedì dal 16 al 17 settembre, se non ci interessa, e venne avvelenata. Si è pensato al suicidio, ma ovviamente Caroline, la pettegola, una sorta di Agatha Christie, se vogliamo, che rinventa queste informazioni, crea sempre il complotto, se vogliamo, cioè chi è il meno sospettabile, quello sarà il colpevole, si pensa che sia avvelenamento. Cosa che avviene, perché è lo stesso dottore che ha avvelenato la Ferrars prima e poi Ackroyd per coprire quel segreto stesso. Ma tutta la narrazione, come detto, sembra fluire in modo straordinario da questo punto di vista, perché copre questo grande problema. E quindi la Christie gioca con noi spettatori, forse più di altri romanzi. Perché proprio il punto di vista cambia. Non sarà la prima volta che il punto di vista sarà diverso, perché, per esempio, un caso che faremo la prossima volta, Assassini in Mesopotamia, per esempio, è un punto di vista che non è quello di Poirot. E questo ci permette di presentare Hercule Poirot a un esterno, che crea una dinamica, come dirà Poirot, alla Hastings. Mi spiego. È divertente vedere come. Noi siamo consapevoli che sia Poirot, va bene. Ma il dottore e sua sorella non sanno chi sia. Perché scambiano nel loro primo incontro, perché è un vicino che non si fa vedere mai, lo scambiano per un buffo tipo un parrucchiere, perché ha i baffi molto curati e conosce Roger Croyd. Quindi pensano che sia un parrucchiere molto importante di Londra. In realtà no, non è così. E qua si inneste il gioco, perché più volte Poirot dice «Ah, lei, signor Shepard James, mi ricorda Hastings». Quindi noi lettori, quella crisi è geniale, gioca sul fatto di lettore, lui è come Hastings, infatti fa le cose alla Hastings, dà gli indizi a Poirot, lo aiuta con deduzioni così molto casuali, che però spingono l'investigatore a portare a termine tutto il suo percorso delle celluline grigie. Cioè fa Hastings, che qua manca, perché a difenza della serie non è un personaggio che è sempre presente, non è il Watson di Sherlock Holmes qua. Quindi James è simpatico, è simpatico, è simpatico, è l'assassino, e non è affatto simpatico, visto quello che fa. E Poirot gioca con questo, perché Poirot, essendo scaltro nella psicologia, capisce che il nemico devi tenertelo vicino e l'amico anche, in un certo senso. Quindi funziona tantissimo. Ma non è solo questo il modo con cui la Christi ci inganna. come fa tantissime sottotrame. Perché ovviamente, prima di arrivare al modo in cui è stato ucciso, e come Poirot scoprirà il nostro assassino come James Shepard, non tanto da un trucco psicologico, da una deduzione sul carattere, ma su un dato fisico, cioè, qui la faccio breve, dopo ci ritorniamo. Shepard ritorna a casa di Ackroyd dopo che se n'è andato e ci mette troppo poco tempo, come se avesse fatto una scorciatoia. Ok, ci mette tre minuti in meno e a Poirot pare molto strano. Va bene, andiamo. Chi sono i sospettati della morte di Roger Ackroyd? In primis, il nostro figliastro, Ralph Payton, che è figlio della prima moglie di Roger Ackroyd, a cui lui tiene tantissimo, perché, come vediamo, Roger Ackroyd è un personaggio, certo, critica della Christi, come signorotto pieno di potere a cui tutti leccano i piedi, ma ha anche una forte emotività in quel poco di descrizione del suo passato, quindi è stato in amato di questa donna che è morta, ha lasciato questo figlio ed è molto severo con lui, vuole che Ralph Payton sposi Flora Flora Ackroyd, che è proprio nipote dello stesso Roger Ackroyd, perché in casa c'è Cecil Ackroyd, che è la sorella della morta, quindi è la cognata di Roger Ackroyd, è la figlia di, i nomi sono un disastro, di Cecil, e la bella e giovane Flora, ragazza, è stata un po' bella, ma superficiale, nel libro si dice dai tatti svedesi, occhi azzurri, pelle chiara, una bellezza incredibile, e quindi abbiamo, come sospettati, Ralph Payton, ovviamente perché quello a cui viene intestato tutto, Flora, perché ha una parte cospicua del patrimonio, mi pare, 16.000 sterline, no, 3.000 sterline, comunque, un modo per rifarsi una vita, perché vediamo che la nostra Flora ha dei sogni, e che si sposa per convenienza, e questo sarebbe un modo per staccarsi, visto che c'è anche una problematica di denaro sul famoso furto in casa a Croyd, ci arriviamo dopo. La stessa Cecil, c'è la madre di Flora, molto ambigua, perché da un lato vuole che sua figlia riceve soldi, dall'altro vorrebbe che anche una parte del testamento di Roger le arrivi, quindi è molto sospetta. Poi cosa abbiamo? Il maggiore Blunt, un amico di a Croyd, ma non sappiamo il perché, che c'è una sottotamma che in realtà rende sospetti un po' tutti, poi c'è Parker, il maggiore domo di Casa Croyd, che è un tipo losco, poi vedremo, Elisabeth Russell, governante, che ha un segreto, Ursula Born, forse, accusata di furto, insomma, i sospetti sono 3-4, diciamo che il romanzo per me ha un piccolo problema, nel senso che puntano tutti gli occhi su Ralph Payton e non è lui, anche se questo può servire come spauracchio, cioè noi sappiamo che non è Ralph Payton e dobbiamo scoprire chi lo ha fregato in questo caso, no? Oppure la Christie è una delle tecniche migliori, secondo me, tu metti al centro qualcuno che pensi che non possa mai essere perché un giallista non ti metterebbe mai il colpevole come primo sospettato e poi è realmente, quindi con la Christie, con Hillary Quinn, con questi tagli, non sai mai se l'ovvietà ti può sorprendere o meno, quindi Ralph Payton è lì, tutti lo accusano, infatti scappa, eccetera, eccetera, quindi sappiamo, comprendiamo che non è lui, però è interessante vedere tutto quello che c'è attorno perché, come dire, a Poirot ognuno di loro ha un segreto che non vuole dire, che non vuole svelare del compito di Poirot stesso cercare di farlo venire fuori, va bene? andiamo sulla dinamica del delitto di per sé così interessante, tutti sono sospettabili perché il nostro acroide voleva parlare con il nostro Shepard perché la signora Ferrars, la sua amante che era stata accusata di aver ucciso suo marito per denaro cosa che aveva fatto si era pentita di questo gesto e aveva scritto che qualcuno l'aveva ricattata che qualcuno l'avesse ricattata cosa che è il vero assassino anche di Roger Acroide cioè James Shepard va bene? ed è ovvio quando tu arrivi all'analisi come il medico sia quello che raccoglie i segreti un po' come il confessore quindi ha perfettamente senso quando il nostro acroide Roger vuole parlare con James Shepard lo invita a cena prima della cena no dopo la cena scusate e arriva anche la lettera della señora Ferrars qui si innesca il piano di Roger Acroide uno potrebbe dire ma guarda un po' che coincidenza la lettera arriva proprio quando Acroide aveva ma che Acroide la lettera arriva quando Shepard aveva già deciso di compiere il delitto io posso risponderti che l'avrebbe ucciso comunque poi è arrivata anche la lettera con una scena che in realtà qua c'è un altro trucco della Christie la Christie ci dice che il nostro Shepard ha visto ha parlato con Acroide ci viene descritto poco prima di essere ucciso ma c'è il trucco della morte ritardata ovvero il tempo del delitto non è quello che sembra comunque James come si si mostra vede Roger Acroide che arriva che legge questa lettera e chiede mi dica chi è l'assassino è bello che lo stile narrativo giochi su questa cosa il nostro dottore è sempre composto dice beh ma almeno Roger dimmi chi è no? fa no non posso devo leggerla da solo la narrazione ovviamente fa un salto che non ti può dire che è stato lui e c'è il trucco della morte posticipata come viene fatto con un dittafono perché Roger Acroide aveva questo dittafono è un piccolo buco di sceneggiatura secondo me ne abbiamo parlato anche con Morella è abbastanza d'accordo sul fatto che questo dittafono che regista la voce ok che sarà la prova del fatto che Acroide fosse vivo anche due ore dopo circa perché ci sono due o tre persone che l'hanno sentito parlare nella sua stanza ma senza vederlo ok quel dittafono compare un po' dal nulla essenzialmente che si scopre che Acroide l'aveva dato al dottore che è esperto interessato alla meccanica come funzionano le cose quindi aggiusta macchinari orologi cosa che lo rende un assassino nella predisposizione perché l'assassino è colui che crea gli ingranaggi del delitto quindi più è preciso più sarà difficile svelare la sua colpevolezza e quindi questa cosa è un po' spuntata dal nulla questa è la ganna e critica che faccio sul finale perché sto dittafono avesse detto a Acroide avevo comprato un dittafono e una volta almeno no quindi questo per me è un piccolo difetto se vogliamo comunque sto dittafono viene sentito in azione da più personaggi mi pare il maggiore si vede che il come si chiama anche Parker che è sempre interessato a sentire cosa fa il suo padrone scopriremo il perché lui è uno che è stato in prigione o comunque ha rischiato la prigione perché è uno che ricatta le persone e quindi voleva scoprire segreti e quindi stava sempre lì con l'orecchio e era sospetto infatti ma ancora più sospetto di lui c'è sicuramente Flora che afferma di aver parlato con lo zio un'ora e mezza due ore dopo la sua morte quando non è possibile ok e questo è un punto di forza per la ricostruzione del delitto di Poirot e anche un punto di forza se vogliamo per James Shepard che dice ah che colpo di fortuna averlo saputo prima perché Flora ha mentito perché essenzialmente lei aveva rubato i soldi furto di cui è stata accusata Ursula e aveva detto no io sono andato a parlare con mio zio quindi corrogere a Croyd e è stata vista con la mano sul pomello della porta ma non è stata vista uscire dal uon Parker però lei doveva giustificare il fatto che fosse scesa dalle scale se ne sarebbe stato sospetto io penso che quella dinamica credibile sì però forse un po' tirata per le orecchie senza che poteva diventarsene con un'altra scusa comunque ci può stare che tu ti inventi sta palla tanto è innocua perché lei aveva rubato questi soldi Flora perché in una situazione economica difficile e questo la rende ancora più sospetta ancora più forse di Payton è vero a Ralph Payton viene intestato la maggior parte del patrimonio ma anche la nostra Flora prende tanti soldini migliaia di sterline con cui voleva aprire forse un centro di bellezza o una una boutique che non mi ricordo più quindi è molto molto sospetto abbiamo anche e quali in seccio si fa sempre più fitto no anzi prima vi parlo degli altri piccoli aspetti del logo del delitto la cosa che rende sospettoso War O è un dettaglio come spesso accade nei suoi romanzi cioè il fatto che quando hanno sfondato la porta proprio James Shepard che è stato chiamato da qualcuno per tornare nella casa e ci ha messo troppo poco tempo per Poirot come vi ho spiegato prima per il tagitto James ha ucciso a Croyd ha lasciato la finestra aperta è uscito da quella finestra ha lasciato le impronte della scarpa di Payton e poi è andato via da quella parte per poi rientrare in casa per farsi vedere ok quindi ci sono dei dei minuti che non tornano quindi ok quello e cosa succede che ha lasciato la finestra aperta della stanza cosicché si possa pensare che qualcuno sia andato dall'esterno in questo senso ha nascosto il dittafono dietro una poltrona e essendo che si è fatto chiamare da un suo cliente da un suo paziente che stava partendo per l'America mi pare e ha finto che fosse una voce che dicesse questa voce Simil Parker guarda che è morto Roger A. Croyd vieni qua dottore con questa scusa sfondano la porta e trovano il morto a questo punto sono lui e Parker e James fa chiamare Parker la polizia così da togliere il dittafono e spostare questa poltrona Parker fa notare sia in una posizione sbagliata ecco qui che il nostro il cuore dice ma che strano infatti sono due tre gli elementi che infatti discono Poirot fin dall'inizio cioè la telefonata perché chiamare il dottore per farlo arrivare là e la poltona spostata andiamo sui altri sospettati perché se qualcuno è entrato da quella finestra della stanza di Roger A. Croyd dello studio di Roger A. Croyd ci sono altri due sospettati perché la nostra Ursula nonostante sia licenziata ha incontrato chi? Ralph Payton che in realtà ha suo marito quindi Ralph Payton che aveva dei problemi anche con il padre Roger A. Croyd anche perché aveva detto di essersi sposata anzi Ursula aveva detto di essersi sposata con Ralph Payton e che non poteva sposare Flora e quindi Ursula è stata vista nel padiglione e qui sono stati lasciati degli indizi cioè l'anello del matrimonio lanciato in acqua da Ursula stessa e trovato da Hercule Poirot e poi l'altro incontro è quello di scusate prendo i nomi Elizabeth Russell con suo figlio Charles Kent Russell è la governante più importante della casa di Hercule che si era discusso per tanto tempo pettegolezzi che potesse diventare la moglie di Roger A. Croyd ma no non è successo questa donna ha avuto un figlio che non ha potuto allevare adesso non ricordo bene perché questo tale Charles Kent ha avuto una vita difficile si è derogato ed è come dire è un tipo losco e ha lasciato diverse tracce e quindi Hercule Poirot capisce che forse non lo so a Croyd avrebbe potuto scoprire questa verità e la governante o lo stesso ragazzo Charles Kent avrebbe potuto ucciderlo oppure Charles Kent per avere qualche denaro si sia potuto intufolare nello studio eccetera eccetera quindi c'è questo sospetto sì ho apprezzato anche se forse troppo abbozzato sarebbe solo divertente vedere uno sconto maggiore fra Raglan e ispettore di polizia di Cranchester che sfida Hercule Poirot che però non è Sherlock Holmes non va lì dicendo io risolverò il caso prima di voi è molto educato come se conoscete bene il nostro Hercule quindi c'è uno scontro ma non così non così spinto come ho detto i punti di forza prima di andare sul finale proprio sono sicuramente che la narrazione ti confonde tantissimo perché il dottor è sospetto ma la narrazione ce lo rende simpatico a tutti i costi un po' con Caroline un po' che il nuovo Hastings un po' con Poirot che se lo tiene vicino quindi pensiamo che sia un buono cosa che ha letto più di un romanzo di Poirot deve stare attento nella metà dei casi se Poirot si tiene qualcuno vicino forse è un sospettato o il colpevole stesso come vediamo in più casi e questo è un punto di forza le sottotrame sono interessanti forse si poteva dare più forza a quelle sottotrame però la Christie non è è l'Eriquine nella scrittura quindi è molto più liscia molto veloce e non e non si perde troppo in queste cose la conosciamo per me è un piccolo difetto ma per altri no funziona tantissimo la scrittura come detto l'intreccio non mi è piaciuto il fatto del pittafono che compare così dal nulla mi piace però il finale perché il dottore essenzialmente viene smascherato da Poirot ma non ci sono prove e il dottore in questo senso si suicida perché qui viene fuori la natura del nostro dottore Shepard che è affascinantissima lui è un uomo che non si è mai preso una vacanza è ossessionato dal denaro lui vorrebbe avere una vita diversa ma non può perché il suo lavoro è quello lì e quindi si è arricchito alle spalle della signora Ferrars e quindi anche di Roger Ackroyd cioè ha impedito che Roger Ackroyd svelasse il suo piano perché c'è una piccola incongruenza nel senso che Shepard dice io avevo una piccola eredità che ho sfumato con investimenti in banca in realtà quelli sono i soldi che la Ferrars diede proprio al dottore per il ricatto e Poirot lo scopre quindi in modo realistico il dottore commette dei piccoli errori ma sicuramente fra i non lo so 5-6 sottotrame che ti confondono fra il vero matrimonio di Ralph Payton la figlia della domestica il figlio della domestica Ursula che forse ha rubato forse no poi è Flora poi l'altro poi l'altro ancora alla fine è molto complicato ed è un colpo di scena bellissimo scoprire che è il dottore James Shepard è il colpevole quindi il nostro dottore che ha avuto la narrazione nel suo favore in questo romanzo conclude il suo diario suicidandosi ah se avessi saputo prima che Flora avrebbe detto di aver visto suo zio ancora in vitale diecime in un quarto questo mi ha reso perplesso più di quanto si possa immaginare in realtà in tutto quanto il caso si sono verificate circostanze che mi hanno profondamente sconcertato quindi anche il più attento anche il più meticoloso assassino non può tenere a bada il caso se vogliamo no e dice vada per il vero naldunque ma come sarebbe stato meglio se il chiu il cuore o non si fosse ritirato dalla professione per venire proprio qui a coltivare le sue zucche ok quindi in chiusura entrambi sia io che Morella mi pare che abbiamo dato otto al romanzo no no le nove 8 perché in effetti è scritto molto bene è un stile forse troppo semplice per me di scrittura però è un grande romanzo cioè la struttura narrativa è assolutamente geniale e colpisce al cuore questo non si scherza poi abbiamo parlato del film qua non non ci è piaciuto troppo o meglio abbiamo fatto un discorso di un certo tipo ora arriviamo e chiudiamo con il rapporto che c'è fra il libro e il film l'unico che è stato fatto da quello che so del 2000 nella serie di sachet ne parliamo un attimo e in tambi abbiamo dato lo stesso voto mi pare il 7 che è un voto duplice in realtà perché il film di per sé è come trasposizione come trasposizione sia io che Morella abbiamo visto che è un po' di boluccia si è fatto di tutto per semplificare il romanzo perché le sono state tagliate le storie per esempio della figlia della domestica Parker viene ucciso nel film per dare sì il brividino che l'assassino abbia colpito abbia fatto una seconda vittima c'è una terza che c'è la signora Ferrars Roger A Croyd nel film Parker che dice io so delle cose eccetera eccetera che però non serve per rendere il caso più affascinante ma solo più semplice perché alla fine Parker è lì per scatenare l'interesse dello spettatore che non porta a niente e rende Roger A Croyd no Roger perché dico Roger A Croyd il dottore forse più serial killer di quello che è mentre nel romanzo è un uomo comune che come dice Poirot è stato spinto dall'avarizia e dalle situazioni contingenti quindi del fatto che arriva la lettera della signora Ferrars A A Croyd deve agire in fretta nel romanzo è più umano mentre nel film è quasi più un serial killer americano ecco questo ci è dispiaciuto la fisionomia di Flora non è piaciuto né a me né a Morella non è minimamente affascinante come descritto nel libro oltre che non è scandinava non ho capito bene perché i personaggi sono un po' meno affascinanti l'inteccio meno affascinante ed è un po' più a portata dello spettatore come succede spesso con le trasposizioni dei film della Christie nella serie tv di con Sashay che è comunque splendida io ce l'ho tutti i film non c'è quell'ironia come ruolo di Caroline che è la sorella di Shepard si perde quel gioco che vi dicevo nascondere la foglia nella foresta non c'è il film è molto più drammatico cupo mentre il romanzo è un tocco geniale fra comicità e tragedia qua la Christie davvero si è spinta davvero lontano però gli attori sono bravi quindi Shepard interpretato da Oliver Ford Davis è davvero bravo Sashay sempre bravo però ci sono delle aggiunte nel film che ovviamente si lega alla serialità che non ci può essere nel romanzo cioè un approfondimento di Poirot che torna anche a Londra dove viene coinvolto anche Jacques e quindi sono belli quei momenti dove ritornano i vecchi personaggi e ti spiego un po' il perché Poirot tornerà a Londra essenzialmente è un po' il senso del romanzo Poirot tornerà a Londra perché pensava che in campagna il male non si celasse quindi che fosse un ambiente più tranquillo invece forse anche peggio sicuramente un punto di forza è essere centrale su Irkjul Poirot ma è un difetto allo stesso tempo Poirot non è coinvolto viene presentato da un altro personaggio che conosciamo che è il dottore quindi colpo di scena tac l'assassino è il dottore quindi chi ha scritto il romanzo il diario più che altro nel film è Poirot che legge il diario dell'assassino che non sappiamo però chi l'ha scritto e quindi si vuole fare un po' il focus su Poirot che legge però non è lui quello che ha scritto il diario e non funziona tantissimo ok però il film di per sé è molto buono fatto bene ti dà quel brividino va bene scena finale un po' esagerato un po' action perché si dottore muore ma non come nel libro che è molto più poetico in chiusura possiamo dire che abbiamo dato al romanzo Morella 9 e 8 mi pare e al film entrambi 7 7 più 7 e mezzo insomma qualche piccolo problemino come trasposizione non brillante ma comunque il film lodevole mi dispiace perché mi sono perso quel file che era davvero interessante live di un'ora e mezza e più però spero che in 40 minuti sia riuscito a riassumere questa cosa quindi vi invito a scrivervi a supportarmi e la prossima volta spero in marzo al massimo aprile però spero in marzo facciamo un caso di Sherlock Holmes il secondo di cui non ricordo il nome e niente ci becchiamo la prossima volta e ciao